Susanna, wow, è molto triste. Susanna, è da dove vieni? Da dove. Ok, e cosa fate la vita? Nulla. Ma siete tutte ricche qua ragazzi, ma cazzo, però, ricchissime, bene, bene. Allora guarda, io non ho questo messaggio, è per la tre, per la quattro, non so esattamente come siete. Ah, non l'avevi capito? Ma era per te? Susanna è l'età per uno, beh, meglio che niente, no? Beh, un bello uomo, dai, insomma, cioè, pipidino, esatto, lo fa dei giorni alterni, non so, gli lasciate un giorno di riposo, poverino, perché, se no è dura, eh? Ecco, Susanna si è svegliata, capendo che c'è qualcosa da prendere su, insomma. Brava Susanna, brava, brava. Complimenti, complimenti, bene, bene, bene. Troppo simpatico. Allora c'è anche un altro maschietto che fa ballare, perché, vorrei più partecipazione del ballo, ragazzi, eh? Fatemi ballare questo bel dono, forza, eh? Su, su. È tornata, eh, la signora. Allora, noi abbiamo, quindi Milano, ne abbiamo un vasco rosso, eh? Sì! Vediamo un po' se ballate un po' di più, per cosa di vasco. Un bel letto, vai, un letto di vasco, vai. Vai. Porta signori, in pista. Grazie.